Nella piazza centrale di Cagli con alle spalle il Palazzo Pubblico, il luogo da dove parte la settimana da Capitale Italiana della Cultura del Comune di Cagli con 25 appuntamenti per questa settimana, ma un programma che poi si prolungherà per tutto il 2024. È un momento estremamente importante per la nostra città, prima di tutto perché ci crediamo in questo progetto, abbiamo riservato risorse economiche, umane, tutto quello che abbiamo l'abbiamo destinato a questo progetto, un progetto che non durerà solo questa settimana, questa settimana sarà il clou con mostre, passeggiate, mostre fotografiche e tanto, 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 concerti, tante altre cose, ma voglio sottolineare che per tutto l'anno Cagli sarà al fianco di Pesaro in questa bellissima avventura, in questa bellissima opportunità che abbiamo il dovere di rappresentare al meglio. Direi che è un momento in qualche modo emozionante perché aprire la settimana della cultura con tutti questi ragazzi e ragazze che sicuramente conoscono i loro luoghi ma non hanno mai approfondito quella che è la storia del luogo e l'idea di far farle guide a loro è stata un'iniziativa che li ha in qualche modo coinvolti perché loro sono stati veramente come un palcoscenico, erano emozionatissimi, preoccupati di non riuscire a far bene e i ragazzi che hanno fruito della loro spiegazione hanno vissuto un momento in cui i loro compagni erano le loro guide, quindi è stato veramente un connubio ideale per aprire la settimana della cultura e per valorizzare i ragazzi, così come questa mostra. L'idea è stata quella di mettere a disposizione, come dicevo, gratuitamente alle scuole del mondo dei blocchi di foto. Queste fotografie si trovano quindi non soltanto in Italia, non soltanto a Caglia, non soltanto in Italia. In Italia abbiamo circa 150 sedi, quindi sparse per tutta la penisola e anche le isole dove sono presenti, ma sono presenti in tutto il mondo. Ci sono quasi 400 le scuole che hanno ricevuto in dono questo set fotografico. Qual è lo scopo? Lo scopo ovviamente è duplice, non è semplicemente quello di poter avere delle belle immagini. Non partiamo dal presupposto che deve essere una funzione di arredo, vuole essere uno spunto per avvicinare le arti, ma soprattutto si va più in profondità. Si vuole far capire ai nostri ragazzi quanto sono fortunati, quanto poteva essere diversa la loro vita se fossero nati altrove. Protagonisti dunque studentesse e studenti, a partire dal progetto fotografico ma che saranno coinvolti anche in tantissime altre attività. Ogni nostro alunno di classe seconda, media, ha adottato una foto e ha scattato una foto contrapponendo il nostro mondo al terzo mondo, facendo vedere le differenze. Un altro progetto è il progetto ceramica con un artigiana locale, Linda Zepponi. I ragazzi hanno elaborato dei prodotti come delle maschere molto belli che poi esporremo oggi nell'aula magna della scuola. Per tutta la settimana le lezioni dell'istituto verranno svolte nei centri storici, nel centro storico di Cagli, soprattutto in quei monumenti più caratteristici, che sono la chiesa San Domenico, la chiesa San Francesco, il Torione, tutte quelle parti che serviranno ai ragazzi per fare cultura, quindi fare una lezione al di fuori dell'aula, quindi il contesto viene trasferito dall'edificio scolastico a quello della città e quindi di tradizioni storiche e quindi tutto il resto.